Ciao a tutti, siamo di nuovo su Minecraft Dungeons, allora, foresta di creeper, allora questa l'abbiamo fatta, foresta di creeper, andiamo a foresta di creeper, attiva missione, cioè avvia missione, foresta di creeper Vediamo cosa c'è nella foresta di creeper, questa è la seconda missione, foresta di creeper, credo che vi tenga a sconfiggere tutti i creeper Allora Sta caricando Intanto utilizzate il nostro codificatore Falcor Game ragazzi, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanellina No, hanno intrapolato un villager Ok Il decreto Tutti i popoli libri ora sono nemici dell'impero dell'abitore in questa foresta Allora, leggo Aspetta Trova la corvana e ferma gli abitori O un destino incentibile attenderà i tuoi amici abitanti Incidibile Incidibile Idicibile Non ho capito esattamente Allora Libera l'abitante Oh no Oh no Prendi questo No, 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 no Ci sono anche quelli corazzati Ok Ok, prendi questo Prendi questo Prendi questo Ok No Mori Cavolo Devo saltare? Arrivano Tanto non mi fate nulla Oh, raccogli Oh Quanto danno ho fatto? Bam, bam, bam Bam, bam, bam No, prendi questo Oh Calma Calmati Oh Ahio Fate male Allora Bisogna liberare l'abitante Raccogli, raccogli Pam, pam, pam Pam Spada Spada di legno Ma io c'ho una spada in ferro Oh, devo liberare lui No Devo difenderlo ora Dai vostri cattivi Trova la Cavor Aspetta Prendi questo Pane Prendiamo il pane Rigenerazione Dai che ho perso Ho perso molta vita Su Rigenerati Si dovrebbe rigenerare tutta la vita Si, si sta rigenerando No Prendi questo Ok, è ammazzato No Ho una mira Veramente Scarsa Raga, è un creeper È un creeper È un creeper È un creeper sicuro Prendi questo Creeper Ok, l'ho ammazzato Ok Wow Ci sono Un creeper Ok Prendi questo No, 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 no Pozione di forza Sono pozione di forza Vieni qua, ho la pozione di forza Tolgo tantissimo Anche tu Ora ti tolgo tanto Prendi questo Ti ammazzo con un secondo BAM 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 Ok, li sta uccidendo Bisogna andare comunque dall'altra parte No, 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 no Mi stanno facendo male, ragazzi. Si stanno vendicando. Oh, cavolo, c'è quello grande. C'è il boss. Comunque se le attacco di seguito non riescono ad attaccarmi. Wow. Fam. No. Sì. Metodo di livello. Prendi questo. Basta, basta, basta. Ok, dai, andiamo. No. Aia, aia, aia. No. Aia. Fa male, fa male. Aia. No, sono troppo... Sei morto. Sono morto. Allora, devo essere furbo. Perché questo è forte. Ok. Mela. Wow. Creeper. Creeper stalker. Boom. Cavolo, è lunghino questa missione. Cioè... Aspetta. Tiragni. Che schifo. No, 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 no. Prendi questo. Mi hanno intrappolato i ragni. Lanciano le ragnatele, questi maledetti ragni. Cavolo, cavolo, cavolo. Calma, calma, calma. Io sono abituato che quando mi attaccano... Ok. Io devo saltare. Salto io. Bam. No. No, 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 no. Aia. Mi intrappolano, ragazzi. Mi intrappolano. No. È difficile perché loro... Ti rilancerò così, a caso. Ok. Basta. Donaggiatelo da lì. Ok. Prendi questo, ragno. No. È intrappolato. Aiuto. Ok. Ok. Uh. No. Basta. Aia. 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 Ok. Sono invisibile. Io sto seguendo l'obiettivo. Ok. È finito. Libera gli abitanti. Libera gli abitanti. Zero su cinque. Wow. No. No. Pam. Evocatore. L'evocatore. Libera, libera. Ok. Uno è liberato. Prendiamo le frecce. Libera l'altro. Ok. No. Lei è forte. Lei è forte. Lei è forte. Ok. Muori. Ottimo. Muori. Ok. Allora. L1. L1. Regenerazione. Perfetto. Muori. No. Calma. 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 Calmi. Calma. No. Sono circondato, ragazzi. Ok. No. No, 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 no. Raccogli, raccogli. R2. Dai, libera. Libera. No. Libera. No. Non toccate il villager. Creeper. No, no, no. Non toccarlo neanche tu. Trovo l'uscita. Dov'è l'uscita? Vai, vai, vai. Bisogna trovare l'uscita. Scorte. Prendiamo. Rigenerazione, l'uscita. No, 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 no. Creeper. Oh, cavolo. Tantissimi zombie in arrivo. Sono tantissimi. Non ce la faccio. Cavolo. Prendi questo. No, ho pure i ragni. Io ti voglio i ragni. Perché spawnano le loro schifose l'arignatere. No. Accidenti. Vieni qua, scheletro. Accidenti a te, ragno. Prendi questo ragno. No, 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 no. Cavolo. No, no, no. Non ti aiuto. Possione di cura. Possione di cura. Ok. Prendi questo ragno. Io gli odio, ragni. Gli odio. Arafica. No, no, no. Mardetti ragni. Le vostre stupide. Cosa pensi di fare? Ok. Prendi questo. Prendi questo. No. No. Aspetta, ma io dovevo andare? Di qua. Il tritolo. R2. Esplodi. No. Oh, però l'ho fatto esplodere. Ok, me l'ha salvato. Prendi questo. Ok, muori. Cavolo. I tritoli. Ok. No, non è morta. Non è morto. Stavo cadendo le lava. Allora, attraversiamo il ponte. Bellissimo comunque Minecraft Dungeons. Cavolo. Cavolacci, cavolacci, cavolacci. Aia. Aia. Pozione di cura. No, 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 no. Cavolo, cavolo, cavolo. Ok. Prendi questo. Questo. E questo. Ok. C'è ancora uno là. Sono diventato un porco a spino. Accidenti voi. Ok. Ci sono. Trova. Apri. Vittoria, sì! 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 Accampamento. In viaggio verso... L'accampamento nostro. Ok. Continua. Cosa abbiamo trovato? Oh! Osso appetitoso! Osso appetitoso! Incantesimo. Ma la L qual è? Ah! Zaa! 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 Ragazzi, se vi c'è il video mettendo un bel progetto in su... Mamma mia Minecraft Dungeons! Quanto è bello! Se vi c'è il video mettendo un bel progetto in su... Spero che vi è piaciuto! E beh ragazzi, io saluto! Ciao ragazzi! Ci vediamo al prossimo episodio di Minecraft Dungeons! Ciao! Bam! Amma mia! U2 I